buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui con noi e per aver aderito a questa iniziativa inizio subito presentandomi sono danilo trenchi direttore commerciale di golman italia è una società che offre particolari soluzioni di automazioni di magazzino per farmacie con oltre 400 installazioni in tutta italia è un grande successo per noi poter organizzare questo evento in questo momento per golman questo è infatti un evento importante perché sentiamo profondamente l'esigenza di portare a conoscenza di tutti i titolari di farmacia delle eccezionali opportunità legate agli incentivi alle agevolazioni fiscali messe in campo dal governo oggi nello specifico faremo particolare riferimento alle farmacie rurali in quanto affronteremo più in dettaglio il pnrr cioè il piano nazionale di ripresa e resilienza che nella sua ultima stesura include particolari incentivi per le farmacie rurali sussidiate ubicati in comuni con meno di 3.000 abitanti e anche per quelle farmacie ritenute sussidiate per determinati requisiti per esempio alcune farmacie urbane che trovandosi in un contesto di discontinuità abitativa possono vantare lo stesso diritto quindi lavorando al fianco con i farmacisti da oltre un ventennio conosciamo bene la distribuzione nel territorio e ancora di più sappiamo quanto le farmacie rurali svolgano un ruolo strategico per la cura e l'assistenza dei cittadini quindi l'emergenza sanitaria che abbiamo e stiamo affrontando ci ha dato indubbiamente ancora più consapevolezza di questo aspetto abbiamo letto che gli incentivi messi in campo dal governo hanno fini inclusivi cioè ovvero hanno il fine di includere nel processo di crescita e organizzazione anche queste tipologie di attività diciamo più piccole chi ha avuto modo di seguirci sui nostri canali avrà sicuramente già sentito alcuni claim ad esempio che l'automazione è per tutti è proprio questo slogan che racchiude la nostra filosofia e che sposa perfettamente questo concetto di inclusività non a caso infatti le nostre soluzioni di automazione possono realmente essere cucite su misura per tutte le farmacie ricordo che noi abbiamo soluzioni di robot quindi di magazzini robotizzati che hanno dimensioni anche da due metri per un metro e sessanta cioè ancora più piccole delle cassettiere quando parliamo comunque di tutte le farmacie pensiamo anche alle farmacie di piccole dimensioni che però magari hanno grandi obiettivi allora detto questo io non mi trattengo oltre e introduco il nostro ospite il relatore di questo webinar che ci parlerà di tutto ciò che c'è da sapere in merito agli incentivi fiscali e alla normativa vigente riguardante le agevolazioni per le farmacie incluse le rurali sto parlando del dottor Antonio strazzullo founder di zero f ventiquattro uno dei più affermati esperti in materia e con all'attivo diverse collaborazioni con farmacie e parafarmacie e titolare di aziende legate al settore del farmaco diamo quindi la parola al dottor strazzullo Antonio prego grazie grazie Danilo eh un saluto a te e a tutti ehm chi ci sta seguendo su questo webinar eh parola d'ordine PNRR ormai eh dal duemilaventuno oggi ancora nel duemilaventidue eh sarà un un riferimento per noi importante per tutto ciò che sarà il sistema delle agevolazioni ma eh scoprirete nel eh man mano che vi spiegherò vi illustrerò le modalità che non esiste solo PNRR certamente il tema del giorno è un'opportunità da da cogliere da non perdere ma scoprirete una grande novità l'accumulabilità su cui tanto si è parlato ma che eh vedremo insieme eh è un qualcosa di operativo esistente e che cambierà la vita delle aziende farmaceutiche delle farmacie ma di tutto il compatto dell'industria ehm piccola nota piccola mozione eh iniziale lo dico sempre in apertura eh sereni che non vi inondo di slide tant'è vero che dopo ehm Goldman eh si riterrà opportuno ve le distribuirà eh ma ehm sarà una una formazione eh breve quindi non non ci tratterremo per ore quindi vi lascerò al vostro lavoro ma sarà anche bidirezionale quindi dopo il direttore Trenchi ci aiuterà come moderatore per verificare ci sono domande risposte perché ve la racconto vi racconto il PNRR ma vedrete che vi nasceranno spontanee tantissime domande eh comincio con la condivisione schermo e partiamo subito con ecco qua avviamo la presentazione perfetto allora solo un secondo che l'aggiusto perfetto allora quindi il PNRR farmacia rurale l'occasione da non perdere non è solo un titolo ma veramente credetemi e da esperto eh da eh oltre venticinque anni eh di eh credito imposta eh e di agevolazione ex agevolazione delle 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 per le imprese ma oggi focalizzati iper focalizzati sui credi fiscali veramente è un'occasione da non perdere eh di cosa stiamo parlando quindi di un PNRR focalizzato sulle farmacie rurali ovvero quelle situate nei comuni con meno di 3.000 abitanti quindi il target è preciso non c'è c'è poco insomma da da ragionarci le risorse disponibili sono cento milioni di euro eh vi renderete conto che è poca roba sembra poca roba ma vi farò vedere invece che eh così come sarà ripartito quindi si pensa nel duemila ventidue di finanziare cinquecento farmacie nel duemila ventitré duemila farmacie quindi il progetto per ora è di cento milioni eh c'è stata una divisione per macro area eh questo per ragioni eh territoriali quindi il cinquanta per cento va nell'area centro-nord il cinquanta per cento per le farmacie situate ubicate nel mezzogiorno abbiamo un importo massimo finanziabile eh che sarà di quaranta quattro mila duecentosessanta che è pari al due terzi del costo standard eh perché? Perché ehm una quota parte sarà finanziato dall'imprenditore e anche da altre strutture insomma che provvederanno a erogare integramente quindi finanziariamente in erogheranno integralmente il contributo. Parliamo di denaro eh anche il credit di imposta sono denaro come dico sempre quindi servono per trattenere liquidità ma in questo caso non è un credito di imposta quindi è denaro che viene erogato tramite bonifico una volta completato l'iter. Eh i contributi saranno regati eh a sportello con una procedura a sportello che significa che abbiamo un arco temporale di apertura piattaforma perché tutto passa su piattaforma digitale dell'agenzia per la coesione territoriale. Eh quindi sul profilo ma questo insomma certamente non lo farete voi lo faranno i vostri consulenti o gli specialisti come noi in Italia eh quindi la piattaforma è stata aperta il ventinove dicembre duemilaventuno e la scadenza la chiusura sarà il trenta giugno duemilaventidue. Eh non è il caso di perdere tempo perché perché ehm il la la dicitura procedura a sportello vuol dire che man mano che arrivano le pratiche saranno analizzate entro sessanta giorni sarà inviata comunicazione entro i trenta successivi e la procedura dovrebbe chiudersi non oltre altri sessanta giorni. Quindi siamo all'incirca intorno a centocinquanta giorni. Quindi in cinque barra sei mesi eh se è tutto in ordine la procedura si terminerà con l'erogazione del finanziamento. Eh il fondo perduto eh e di fondo perduto si tratta perché stiamo parlando di denaro finanziamento pubblico rientra in aiuto di Stato e dopo scopriremo perché questa importante individuazione classificazione da parte del del legislatore. Ma rientra anche nel di minimis eh molto brevemente che cos'è il di minimis? È un sistema europeo eh che prevede l'utilizzo di fondi perduti di agevolazioni quindi di aiuti di Stato nel limite di duocento cinquanta mila euro distribuito su tre esercizi. Quindi la cifra certamente eh è molto piccola esigua quaranta quattro mila rispetto a duecentocinquanta mila ma eh dovete sapere che rientra nel de minimis. Eh cumulabilità. Questo è un argomento vi può sembrare squisitamente tecnico ma ripeto io so che sto parlando a farmacisti ed aziende e non certamente a colleghi dottori commercialisti o specialisti di settore quindi però ci tenevo a darvi questa comunicazione. Perché? Perché eh nel momento in cui facciamo un esempio della dell'automazione quindi Goldman, un robot, un 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 l'attrezzatura di automazione eh del il progetto, il processo di automazione della Goldman ehm ha un valore superiore certamente all'importo del finanziamento, superiore a due terzi del valore del finanziamento, potrebbe poi insomma eh da verificare con con i commerciali Goldman. Ma qual è la opportunità? L'opportunità è che siamo in presenza di aiuto di Stato. La famosa circolare trentatré del duemilaventuno ha chiarito auguriamoci certamente per noi lo è ma ha essendo una circolare potrebbe anche subire delle variazioni ma è stata quella chiarificatrice sulla due su tre principi quali? Quelli che il principio del doppio finanziamento che significa che non è possibile avere due erogazioni di finanziamento eh in parole povere io non posso avere un finanziamento e un credo d'imposta lo posso avere non posso avere due finanziamenti. Mi spiego meglio un'erogazione con bonifico tramite procedura come è il PNRR sì un'altra erogazione in denaro no ma posso sommare invece eh l'altra opportunità dei crediti fiscali, dei crediti di imposta. Vedi quattro punto zero o bonus o mezzogiorno. Ma nel caso il bonus o mezzogiorno dobbiamo rimanere nel limite del quarantacinque per cento di quello che è l'investimento finanziabile. quindi abbiamo detto già divido il doppio finanziamento la possibilità ripeto ormai chiarita di cumulare il piano transizione quindi che tutti conoscete come eh quattro punto zero allegato a quindi formazione quattro punto zero quello che ci ha permesso l'anno scorso e negli ultimi due anni di recuperare il cinquanta per cento del valore dell'investimento quindi un Robo Goldman recuperavo il cinquanta per cento oppure nel caso in cui eh ho effettuato un ordine al trentuno dicembre duemilaventuno ma mi sarà consegnato installato entro il trenta giugno ancora conserverò il cinquanta dal duemilaventidue la liquida scende al quaranta per cento. Ehm sono note tecniche ma credetemi eh non basterà solo guardare il mero finanziamento legato al PNRR farmacie rurale. Avete bisogno di chi vi aiuti nel verificare eh qui da esperti da esperti eh come noi se ci sono altre opportunità cumulabili. Faccio un esempio eh la il l'importo massimo previsto nel PNRR quindi farmacie rurale per l'automazione è di eh di un di un importo di cinquantanove mila euro quindi valore del bene cinquantanove mila euro due terzi il valore trentanove mila trecentotrentatré ma che significa che se io invece ho in ho un investimento di ottantamila euro quindi dovrò dividere quello che è la quota che eh ho utilizzato in PNRR farmacie rurali quindi verificare se ho superato o meno gli aiuti di Stato e la quattro punto zero e per la quota eccedente posso liberamente andare ad acquisire altri aiuti di Stato o eventualmente aiuti generici come la quattro punto zero quindi in maniera sintetica mi auguro di di avervi trasmesso il messaggio non basta guardare solo il PNRR è una quota parte di quello che possiamo recuperare per esempio nel caso dell'automazione quindi l'investimento all'automazione non sarà solo un recupero di trentanove mila trecentotrentatré ma potrà essere superiore analizzando in maniera precisa quindi in che area mi trovo se mi trovo nel mezzogiorno posso accumulare il bonus sud nel limite degli aiuti di Stato del quarantacinque per cento ma certamente posso recuperare per la quota eccedente la parte finanziata da PNRR farmacie rurali e invece certamente posso andare a recuperare la la quota parte di industria ex industria oggi piano transizione quattro punto zero eh quali sono gli interventi e dispositivi la normativa l'avviso pubblico legislatore ha diviso in tre ambiti eh quello che possono essere gli interventi e dispositivi quindi con primo ambito quindi sulla dispensazione del farmaco eh tanto è vero che eh nell'ambito nel primo ambito eh abbiamo anche eh l'automazione eh relativa alla Goldman quindi sotto forma di codice alla 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 sezione a dirci primo ambito rientra proprio l'impianto per l'automazione magazzino il secondo ambito è quello della presa in carico del paziente cronico terzo ambito prestazione servizi di primo e secondo livello eh voi siete maestre quindi è inutile che vi spiego di cosa si tratta vi ho allegato anche eh l'allegato quindi che della dell'avviso pubblico dove va ad indicare in maniera precisa quello che sono gli interventi e dispositivi previsti per i tre ambiti eh ma questo lo farete certamente con chi vi aiuta nell'elaborazione della pratica quindi volo ti chiedo scusa Antonio credo che le le slide eh non scorrano in in sequenza in questo momento allora vedete l'allegato 1 no c'è ancora la pagina 1 eh solo un attimo devi forse andare in presentazione dall'inizio ma io le vedo io le vedo ma tranquilli che ve le do ve le mando quindi è importante che mi seguiate sul ragionamento quindi la eh ora vedete la pagina 2 no vediamo sempre la pagina 1 forse devi eh però noi tieni conto che ecco adesso sì allora perfetto allora c'era quest'altra modalità questa la vedete così sì la pagina 2 quindi la la sintesi ma ripeto quello che è importante dovete seguirmi nel ragionamento quindi piccolo recap ehm aiutami che non vedo quello che vedete voi quindi mi aiuti a verificare se vediamo la stessa cosa allora adesso vediamo stiamo vedendo la pagina 2 dove eh ci fa un esempio un esempio puro giusto anche per far capire eh la differenza che c'è tra la farmacia rurale del nord o del centro nord e quella della macro area del mezzogiorno perché sono due situazioni diverse l'importo massimo finanziabile quindi che dicevamo è 44.260 che pare a due terzi del costo standard eh secondo la procedura sportello che abbiamo già detto quindi piccolo recap che è una procedura eh su piattaforma eh del sito eh agenzia per la posizione territoriale eh dove già è stato aperto il 29 dicembre 2021 verrà chiuso il 30 giugno 2022 eh tutto ciò che vi ho detto invece per quanto riguarda prima il fatto che il fondo perduto rientra in aiuti di stato di minimis eh questa classificazione è importante perché come ho chiarito la terza slide ve ne stavo già parlando prima la cumulabilità di PNRR con le altre agevolazioni quindi ripeto a cosa quindi quella la slide di prima è e come dire è quello che è lo standard quello che già conoscete o dovreste sapere quella invece che eh come dire è una è una piccola novità e sul intervenire con la cumulabilità del 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 finanziamento PNRR con le altre agevolazioni quindi occhio a non perdere il cumulo delle opportunità quindi ripeto un'automazione Goldman fatto cento cento mila un investimento Goldman voi non avete recuperato solo su cinquantanove mila no va fatto un ricalcolo anche con le altre agevolazioni che ripeto secondo la circolare trentatré duemilaventuno del trentuno dicembre duemilaventuno guardate è stata una cosa veramente assurda perché c'era stata una circolare MEF che aveva messo in dubbio tre anni di lavoro una circolare invece intervenuta da parte dell'agenzia eh del MISE quindi mistero sviluppo economico di concerto con l'agenzia delle entrate il trentuno il regalo di fine anno ci hanno dato questa circolare chiarificatrice ripeto noi già lo sostenevamo col nostro centro studi di zero e ventiquattro quindi avendo un nucleo di quattrocento venticinque dottori commercialisti esperti su tutto il periodo nazionale ma ripeto insomma ehm è stata è stata una bella un bel regalo che anche il l'agenzia delle entrate il MISE innanzitutto abbiano chiarito questa novità eh l'ambito ne abbiamo parlato i tre ambiti ma ripeto siete maestri qui non scendo nell'ambito tranne insomma se non mi fate domande ma non scendo negli ambiti eh volo sull'allegato perché eh uno che prevede gli interventi con le varie specificità però questo spetta più a chi vi elabora la pratica quindi voi queste cose non dovreste neanche saperle se non che ci sono i tre i tre ambiti eh ma poi come andare a configurare sulla piattaforma quello che sono gli investimenti agevolabili già effettuati perché vedete che c'è una sezione obbligatorietà obbligatorietà e opzionali opzionalità cosa serve serve per chiarire quello che sono giustamente se io sto mi sto preparando in un ambito della dispensazione del farmaco non posso non avere un hardware non posso non aver fatto una formazione quindi diventa finanziabile e recuperabile se l'investimento è fatto dal ventinove dicembre duemila ventuno cosa diversa invece se l'ho fatta negli anni passati ma posso almeno indicare che ce l'ho cioè la formazione l'abbiamo fatta quindi vuol dire che sono di entra tra quegli investimenti già realizzati che però mi permetto di completare lo lo schema la scheda del primo secondo o terzo ambito un'altra novità è che eh non dovete per forza avere investimenti in tutti e tre gli ambiti basta anche un solo ambito ehm ah vabbè insomma questa eh per per dove trovare Goldman quindi l'automazione Goldman quindi al punto A10 quindi primo ambito A10 eh questo ancora il terzo ambito quindi questa è in breve tutto quello che quello che come dire è la indicazione l'illustrazione di quello che è la la eh il PNRR in sintesi in estrema sintesi ma per quello che vi serve sapere sul recupero del finanziamento PNRR farmaci e rurali quindi eh direttore se per te va bene sono pronto alle alla a una condivisione poi posso anche parlarvi delle altre opportunità eh tipo legge Sabatini eh in maniera specifica eh quindi se è cumulabile quando è cumulabile però non voglio tediarvi quindi aspetto anche voi se avete eh se insomma eh ci sono quesiti allora intanto io volevo cercare di di fare un esempio di calcolo no proprio per per mettere nero su bianco un'ipotesi di investimento io sono un farmacista che ha una farmacia rurale e ho la farmacia al nord Italia quindi oggi ho eh l'agevolazione ovviamente farmacia rurale sussidiata quindi che rientra nei tremila abitanti oppure in situazione di discontinuità abitativa faccio un investimento di centomila euro proviamo a fare una simulazione di quello che può essere il vantaggio fiscale? Eh sì eh però ehm può sembrare come dire il eh una una dimenticanza non l'avrei inserito nelle slide io volutamente non l'ho inserito in slide per la ragione molto se ve lo spiego perché non lo volevo inserire perché eh non vorrei che fosse preso come un riferimento così come lo faccio negli altri webinar dove è certo l'importo vi spiego il perché su centomila euro di investimento innanzitutto dobbiamo chiarire se l'investimento è tutto in automazione quindi nell'unica voce quindi vuol dire che noi abbiamo i limiti per voce quindi abbiamo del non tanto i limiti per ambito limiti per i tre ambiti e quaranta quattro mila duecentosessanta euro di importo agevolato c'è i due terzi del finanziamento quindi su centomila i due terzi potrebbero essere finanziati nel limite di quaranta quattro mila duecentosessanta ma la restante parte non è che la buttiamo la restante parte la possiamo recuperare attraverso altre agevolazioni fiscali quindi non è semplice è da fare ripeto lo facciamo in maniera come dire eh esemplificativa ma no ma proprio come esempio no io dicevo fatto cento che spendo cento ho quaranta quattro mila e duecentocinquanta se non ho capito male da togliere sì ma non è neanche vero per questo perdonami per questo poiché il webinar è pubblico quindi non è un esempio solo tra di noi ma è pubblico eh è un dato eh che ci diamo in maniera eh scolastico accademica ma che non è non è vero al cento per cento perché va analizzato anche le l'accumulabilità con gli altri interventi no no ma poi gli aggiungevo io volevo fare per step per far capire a tutti cioè prima proviamo a togliere prima allora centomila dai centomila dobbiamo togliere cinquantanovemila quindi parliamo dell'investimento meno cinquantanove perché il cinquantanove parliamo di automazione stiamo parlando eh sì stiamo parlando di investimento eh diciamo in analizzato l'acquisto di un robot quindi primo ambito a dieci no perché la situazione si complica nel momento in cui dobbiamo andare a coprire il primo ambito altre voci quindi parliamo del dell'ambito del primo ambito caso specifico quindi vostro aziendale a dieci automazione quindi ho un investimento con eh con con attrezzature Goldman con ehm con Robo Goldman di centomila euro innanzitutto devo togliere cinquantanovemila euro che è la quota investimento che rientra in farmacia orale perché il quarantuno la restante parte il quarantuno vado a sommare le altre agevolazioni ok cinquantanove recupererò trenta tre mila trentanovemila trecento trentatré così come prevede la la scheda a cui sommerò però secondo il principio dell'accumulabilità su altri quarantuno visto che parliamo di industria quattro punto zero il quaranta per cento di quarantuno ok quindi non su eh la differenza a diciamo tra diciamo la spesa e trentanovemila ma sulla differenza da tra centomila e cinquantanovemila perfetto perché il il finanziamento è pari a due terzi dobbiamo reintegrare perché stiamo confrontando il l'investimento fatto con il finanziamento noi dobbiamo aggiungere la quota l'altro terzo quindi eh è cinquantanovemila così vuol dire la scheda degli interventi quindi dobbiamo sottrarre a cento i cinquantanove su cinquantanove recupereremo trentanovemila trecentotrentatré ed è un finanziamento quindi erogazione a fondo perduto denaro e in due sei mesi ma dopo sei mesi ma certamente è denaro ehm però eh ecco qui ci saremmo fermati non è vero perché perché abbiamo da recuperare anche siamo nell'area nord su quarantuno mila euro il quaranta per cento perché è un il vostro bene conosco benissimo è una rientra nel famoso allegato a quindi pertanto su altri quarantuno mila euro andiamo a recuperare il quaranta per cento tranne se è stato fatto un ordine il eh nel duemilaventuno realizzato nel duemilaventidue tanto è vero che sono state anche cambiate le PAC sul eh sul eh coesione territoriale sul sul sito della coesione territoriale per quanto riguarda le farmacie rurali perché mentre prima era circoscritto agli ordini ventinove dicembre trenta un dicembre oggi invece da una rivisitazione da parte del ministero quindi basta che ci sia l'ordine quindi ma realizzato nel duemilaventidue quindi vuol dire che ancora recuperiamo la vecchia liquida cinquanta per cento. Ok questo sì. Allora a questo punto facciamo il gioco del sud qui nel mezzogiorno. Io volevo per chiarezza far percepire all'utente collegato eh qual è la somma che eh per lui è l'esborso reale considerando anche poi che cosa considerando anche che poi il bene è un bene ammortizzabile quindi ci sarà anche una diciamo un valore che io recupero dal piano di ammortamento giusto? Sì non è non è escluso l'ammortamento quindi pertanto come tutti i i crediti crediti di imposta e nel modo specifico la eh che non è un credito imposta ma è un finanziamento a fondo perduto del PNR eh non perdono eh non perdono eh non perdono l'ammortamento la quota ammortamento quindi. Ecco ma la quota d'ammortamento la quota perdonami eh ma io voglio voglio essere proprio eh semplice eh la quota d'ammortamento no? Cioè l'ammortamento si calcola su tutto l'imponibile tutto 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 perfetto quindi su centomila io ho un ammortamento in base alla mia liquota IRPEF diviso nei cinque anni previsti come quota d'ammortamento giusto dico bene interrompimi se sbaglio ok quindi quindi io avrò supponiamo che io abbia un aliquota IRPEF del 43% avrei anche questo 43% che è la risultanza dell'ammortamento giusto? Quindi fammi capire io piccola farmacia del nord sussidiata spendo centomila euro quanti soldi devo tirare fuori realmente poi? Cioè facciamo i conti semplici della sera cioè fatto cento cioè il robot costa cento ma io quanti soldi tiro fuori? Allora fatto l'esempio che diceva questo esempio io stavo tirando giù dei numeri eh andiamo a recuperare trentanovemila trecentotrentatré di di farmacia rurale e in più andiamo a sommare siedicimila e quattrocento di quattro punto zero quindi parliamo del quaranta per cento del valore della differenza centocinquantacinque mila settecentotrentatré li vado a recuperare questa è eh recupero di liquidità cioè nel senso che certamente avrò un debito cento ma ehm recupererò cinquantacinque settecentotrentatré ma non solo eh questo è il recupero di liquidità quindi quel famoso cash flow che vado a recuperare ma invece di minor tassazione avrò il quarantatré ventisette trentatré e sarà l'aliquota in base in base alle aliquote in base alle aliquote insomma eh aziendali eh di ogni farmacia quindi in base al valore in base a quello che è reddito quindi se ha un generato reddito più alto più basso però dalla serie eh e quelle è la quelli lo recuperi anche quindi pertanto nella realtà recuperando anche il quarantatré per cento quindi quarantatré mila euro non ti costa se costa duemila euro quindi da eh cash flow quindi trattenere liquidità in azienda recuperando da finanziamento e da credito di imposta recuperi cinquantacinque settecentotrentatré ma un altro quarantatremila euro li vai a recuperare dalla non dal dal costo e dalla detraibilità eh deducibilità del costo dal dai ricavi quindi che ti permette di risparmiare quarantatremila euro di tasse perché certamente una cosa avere in bilancio un investimento con un po' di ammortamento cosa diversa lo sanno certamente i farmacisti quando a fine anno ti trovi un utile di eh settecentomila euro ma che facciamo non puoi fare nulla cioè settecentomila euro eh te lo vai a portare a reddito ma se invece avessi avuto un investimento avreste avuto una quota di ammortamento la quota di ammortamento ti determinava il meno reddito quindi meno tasse allora io ho fatto due conti eh correggimi quindi centomila costa al robot eh trentanovemila e trecentotrentatré mi arrivano attraverso un bonifico sedicimila e quattrocento euro corrispondono al quaranta per cento della quattro punto zero che si sommano ai trentanovemila e trecentotrentatré arrivo ad avere un cash flow di cinquantacinque mila e settecentotrentatré corretto oltre a questo aggiungo la quota di ammortamento che se fosse a quarantatré per cento sarebbe una differenza che mi porterebbe a avere di ritorno novantottottomila e settecentotrentatré euro eh giusto per essere chiare la la il limite eh del delle agevolazioni in genere credito di imposta e fondo perduto quindi credito di imposta o finanziamento è del cento per cento del valore del bene quindi siamo ancora nel limite quindi ho risparmiato i tasse eh quarantatremila ho ho recuperato cash flow per cinquantacinque sette tre tre quindi sono ancora nel limite non ho superato quel limite previsto il tetto della norma è che mi danno dei soldi cioè se arrivo a zero non è che poi mi rimane però se io se io ci mettessi ci aggiungessi la sabattini magari arrivo a zero allora eh nel senso che eh volevo eh volevo arrivare anche a zero però allora tu ci tieni al pareggio io io vorrei il pareggio tra me piace vincere ma anche male che male che male che faccia li mette gol ma duemila euro quindi tra l'altro neanche mille e duecentotantasette quindi possiamo prendere impegno che mille e mille rotti li mette no eh hai ragione possiamo arrivare arrivare al cento per cento eh con Sabatini ma sempre facendo attenzione a quei calcoli che ripeto deve essere fatti da esperti in crediti di imposta ed agevolazioni che trattano la materia in maniera professionale e continuativa una pratica PNRR anche un collaboratore di studio ripeto sono un dottore commercialista a trentacinque anni lo ricordo a me stesso ma ormai abbiamo creato questa questa macchina eh questo questo grande network questa grande struttura che è il TRF24 ma eh un giovane presso uno studio ordinario dottori commercialisti anche un giovane collaboratore può riempire i campi del PNRR anche chi è in ascolto può anche farlo da solo cioè senza chiedere a nessuno ma la situazione diventa più difficile per cui ripeto non me la sono sentita di fare una una scheda riassuntiva perché è furbiante se eh non mettiamo tanti paletti legato Sabatini sì a condizione che non superi il 40 C C C eh serviva un po' di Excel e non una scheda perché il po' di Excel ripeto non è che si sommi quindi per rispondere anche ad alcuni eh di voi che sono collegati c'è un dottore che ci chiede appunto se il PNRR è accumulabile con la Sabatini e con il credito imposta con i presupposti però che abbiamo poc'anzi specificato. Allora è accumulabile nel limite del degli aiuti di Stato in Italia gli aiuti di Stato sono pari al 45 per cento però ecco chi è esperto come noi quando fa il calcolo il 45 per cento non prende come base solo quella finanziabile la base la base è 100. Quindi per questo attenzione è come fate i calcoli perché se il calcolo fate preciso come va fatto da esperti mettete come base 100.000 il il limite il 45 per cento quindi in base alle piccole e medie e grandi imprese degli aiuti di Stato quindi 45 35 25 ma diciamo piccola impresa fino a 10 milioni di fatturato e fino a 50 dipendenti eh il limite è il 45 quindi 45.000 euro non il 45 per cento di 59 che sarebbe l'importo finanziabile PNRR questa è la logica cioè guardate per chi lo fa come noi di mestiere di professione è facilissimo perché siamo iper sensibili iper specializzati per chi domani mattina si trova ad elaborare se ne fa una facile non avrete tutte le agevolazioni cioè la cosa più semplice non vi creerà danno perché non si azzarderà di prendersi di più ma sarete al minimal c'è della serie quello che dice la norma bla 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 lo riporto. Detto questo proviamo a fare una simulazione anche per un'ipotetica farmacia del sud che gode anche del CIM cioè del credito d'imposto del mezzogiorno. Allora lì ripeto il calcolo è leggermente più difficile perché come ti dicevo dobbiamo sempre ispettare quel famoso 45 per cento ma andando a spanne nel senso che non lontani però dobbiamo sommare ai 55 mila euro su 41 il 45 per cento. Anzi la faccio più facile poiché superiamo i 100.000 e recuperiamo tutto. È zero. Stavo guarda aiutando nella risposta. Non è sposta neanche la quota integrativa. Attenzione neanche i famosi 1.267 euro. Allora l'importo sarebbe maggiore ma poiché dobbiamo rispettare la norma quindi ecco vi invito a non fare cose al di fuori della norma eh perché poi lo fate ma dovrete poi restituire i crediti fiscali o l'eventuale finanziamento o le sanzioni interessi quindi io vi sconsiglio di di fare calcoli affrettati quindi valutato quello che è recupero fiscale valutato quello che è recupero come farmacia rurale aggiungendola il mezzogiorno aggiungendo la 4.0 innanzitutto perché è il vostro è un prodotto eh squisitamente quattro punto zero legato a cioè non c'è prodotto che più risponde alla quattro punto zero sono il vostro. Meno male qualche aiuto ogni tanto serve. Allora su questo mi permetti mi permetterai allora eh su quello che dicevi sulla frase meno male che ogni tanto c'è un aiuto. Eh dopo o subito ti introduco un introduco solo un argomento che poi vedrai se lo vogliamo trattare guardate che il bonus sud scade il trentuno dicembre duemilaventidue. Sabatini è stata rifinanziata per tutto il ventidue. La quattro punto zero siamo arrivati al duemilaventicinque. Quindi noi ripeto eh da esperti specialisti bla 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 ci siamo specializzati in PNRR per una ragione molto semplice perché molte molte eh misure PNRR non questa sono crediti d'imposta. Cioè per il settore turistico sono crediti d'imposta non è finanziamento. Non è non è una procedura che è un bonifico. Erogazione. Quindi per questo abbiamo abbiamo ci siamo specializzati anche in PNRR perché rientra il credit fiscale. Ma noi non volevamo farlo. Cioè noi già stiamo benissimo con questi crediti fiscali che trattiamo in maniera ripeto molto specialistica. Ma li stiamo trattando perché riguarda sono solo nove miliardi di euro quindi non sono grandi cifre per le imprese eh però della serie eh ci tocca perché è un credito d'imposta imprese ma nel caso specifico non lo è ma è un finanziamento. Un'altra domanda ci arriva da diciamo da un da un dottore che eh ci chiede se il credito d'imposta del mezzogiorno è considerato de minimis? No. Allora eh il non è considerato de minimis a differenza di farmacie rurali PNRR. Il PNRR farmacie rurali è de minimis. Ok. Quindi salvo diversamente specificato non è de minimis a meno che non sia ehm una diciamo farmacia sussidiata. Giusto? Solo no aspetta il de minimis. Allora il sud non è de minimis. 4.0 non è de minimis. Per farmacie rurali il finanziamento PNRR. Sì è de minimis. L'ho indicato anche slide. Ok. Perfetto. Allora ehm io se sei d'accordo farei un breve cenno sulla ehm farei un recap sulla procedura no? Perché? E aggiungerei anche la Sabatini che è quella diciamo quella agevolazione che eh spesso è stata fraintesa credo con la legge 13. Quindi io volevo fare un attimo chiarezza perché tanti commercialisti eh confondono la Sabatini con la legge 13. Quindi cerchiamo di 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 dare un attimo un un'immagine più chiara dell'interpretazione. Allora eh Sabatini così scompiamo il campo quindi che che cosa è la Sabatini? Quindi cosa non è? E cosa è la Sabatini? La Sabatini è un aiuto di Stato. Quindi non rientra in de minimis ma rientra nei limiti degli aiuti di Stato come dicevo prima carta europea 45 35 25 se siamo piccola medio grande che cos'è? E' un contributo anche qui è una erogazione sotto forma di contributo in conto interessi sugli investimenti. Rientriamo come categoria perché il robot eh Golman l'automazione Golman è quattro punto zero quindi rientriamo in quelle agevolazioni previste dalla legge Sabatini. Quindi vuol dire che noi avremo un recupero parziale eh sul sugli interessi che eh addirittura avverrà sotto forma di erogazione immediata dopo sei mesi da finanziamento o leasing perché la Sabatini eh si legga eh allora voi dovete fare l'operazione semplice io ho da finanziare se pago eh come dire se eh gestisco con mia equiti con mio denaro non c'è Sabatini c'è Sabatini solo se vado presso un istituto finanziario a chiedere o un finanziamento quindi mutuo o altro o eventualmente un leasing perché perché la domanda viene mandata alla banca non viene mandata a a un'altra parte e la banca la invia ad Invitalia quindi si apre su piattaforma Invitalia e dice guarda io sto facendo il finanziamento sulla banca che sta erogando eh questo è il progetto io sto per erogare una prima di fare l'erogazione del finanziamento e del leasing ma una volta che è stato erogato il finanziamento leasing normalmente entro tre mesi dal pagamento della prima rata viene erogato il bonifico per intero negli anni passati invece la cosa era più come dire forse più corretta cioè pago rata o rimborso pago rata e o rimborso adesso invece il legislatore per agevolare le aziende restituisce una quota parte degli interessi passivi su quel finanziamento o leasing erogando erogando diceva te ne anticipo te ne anticipo quindi parliamo di 5.000 10.000 o 20.000 euro in base al tipo di investimento che si va a fare altra domanda che arriva vediamo allora eh il PNR è retroattivo ai beni eh in corso di ammortamento? No il PNR non è retroattivo la retroattività riguarda solo la possibilità allora eh facciamola facile eh negli interventi negli interventi previsti dall'avviso pubblico quindi dal dalla 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 normativa sul PNR le farmacie rurali eh cosa è previsto? È previsto nel bando è previsto che eh c'è un allegato uno dove ve l'ho mandato ve lo interventi la legato uno prevede obbligatorietà e opzionalità io se mi trovo in un ambito devo avere quel devo fare quegli investimenti cioè non posso avere in un primo ambito che è quello legato alla eh alla all'automazione non avere un computer cioè non possono averlo non posso avere un monitor non possono averlo qual è il vantaggio del recupero per c'è come dire del del dei beni antecedenti al ventinove dicembre che posso inserirli qui c'è la confusione io li posso inserire ma non recupero il finanziamento è come se avessi fleccato ce l'ho ce l'ho ce l'ho viene richiesto al nel primo ambito un monitor di almeno di ventidue pollici ce l'ho ma l'ho comprato l'anno scorso ma non recupero il finanziamento cioè la chi redige elabora la su piattaforma il progetto lo sa ci dice guarda sì me lo devi dare perché io devo fregare cioè se no te lo devi comprare quindi se il progetto nel caso specifico è un un robot goldman automazione goldman io non devo comprarmi un computer o monitor però devo indicare che l'ho comprato quindi ho l'obbligo di indicarlo perché è un dato obbligatorio ma non è finanziabile questa è stata la confusione sulla retroattività non è retroattività c'è dal 20 di investimenti al 29 dicembre 2021 ok vediamo se risposta ok questa fatto c'è un'altra un'altra allora vediamo anche diamo anche la possibilità di fare delle domande in tempo reale perché c'è qualche spettatore che ha chiesto la parola diamo la possibilità agli organizzatori di far intervenire in tempo reale prego se ci sono e il dottor fabio albanese chiede di alzato la mano chiede di poter porre una domanda prego deve attivare l'audio dottor albanese deve attivare l'audio perché se no non sentiamo nel frattempo se a passare a qualche altra domanda così che si è alzato la mano il dottor fabio albanese però non chiede di impostare dei minimi sì questa è un'altra cosa che abbiamo già a cui abbiamo già risposto allora c'era un'altra domanda allora come devono comportarsi le farmacie rurali che hanno acquisito l'anno scorso robot ottenendo così anche il 50 per cento del credito d'imposta allora l'imposta riconosciuto al 40 va suddiviso in tre anni o si può concentrare tutti in uno allora il crimp allo nato solo sto cercando un attimo di capire però se la domanda la leggo anche io hanno appena l'anno scorso il voto è così ci ma quelle che hanno ricordato poiché il nella sezione a 10 primo ambito il l'automazione è un'opzione quindi non va neanche indicato nel nel progetto quindi su questo non possiamo recuperare nulla possiamo recuperare giustamente poiché è antecedente possiamo recuperare il famoso il 50 per cento che dell'anno scorso perché l'anno l'investimento il 2021 il credito d'imposta riconosciuto al 40 per cento o 50 per cento la suddiviso in tre anni sì c'è eh il l'industria 4.0 piano transizione 4.0 quindi quello che viene chiamato genericamente 4.0 si è in tre quote è in tre quote per gli acquisti 2021 e 22 e mentre per specificare meglio il credito d'imposta del mezzogiorno cioè ci è in un'unica soluzione giusto unica soluzione entro 12 giorni dalla richiesta otteniamo l'automizzazione e dopo cinque giorni possiamo utilizzare anche tutto un unico f24 non viene essere splittato spacchettato in più quote eh e solo se l'importo invece del credito d'imposta è superiore ad euro centocinquantamila i giorni salvano a 50 perché eh viene mandato una prima risposta a 12 giorni e altri eh 38 giorni per l'antimafia qui la verifica interna antimafia ok eh un'altra domanda mi chiedono è per le farmacie che non sono rurali ci sono le allora allora per le farmacie non rurali non rurali sussidiate eh per intendo eh non rurali sussidiate per ora non c'è 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 il classico eh sud nel mezzogiorno a cui sommiamo la 4.0 eh in Italia invece per centro nord è solo è solo 4.0 e se l'investimento fosse superiore a centomila euro ci sarebbe sempre quella differenza là e quel limite di ritorno all'investimento il limite è sempre del cento per cento del valore del bene però abbiamo fatto prima un esempio accademico eh su base cento lo possiamo fare anche su duecento ma i parametri saranno sempre gli stessi quindi io posso recuperare ehm l'importo previsto dal PNRR farmacie rurali quindi massimo di trentanove trecento trentatré recupero la quota parte eh di Sabatini se ho eventualmente un interesse passivo sul leasing o finanziamento a cui aggiungo la quota sud nel limite al quarantacinque per cento del dell'investimento di duecentomila ipotizziamo duecentomila a cui vado a sommare il cinquanta per cento perché qui è cumulabile della 4.0 sempre nel limite del cento per cento del valore di beni quindi agevolazioni aiuti di stato quindi e eh ed eventuale risparmio fiscale il tot non può essere superiore al cento per cento perfetto un'altra domanda ci arriva eh prendi nota qua perché è un po' complesso quindi farmacia rurale sussidiata impianto Goldman ordinata nel 2018 quindi è stato fatto un acconto del 20 per cento immagino nel 2018 messo in produzione e consegnato nel 2019 quindi acconto 40 e acconto del 30 invece il saldo è arrivato nel 2020 no 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 non è finanziabile non è finanziabile quindi ci dispiace per il dottore partiamo a focus e farmacia e il pnr però eh quindi se il focus di adesso è pnr non è finanziabile col pnr cioè certamente avrà recuperato eh 4 imposta esatto i casi di imposta ed ammortamento però non c'è eh nessuna agevolazione di pnr perché è eh antecedente eh un nuovo investimento è un investimento pregresso che è opzio più scusa è opzionale quindi non serve però ma per quanto tempo è retroattivo questo pnr il pnr non è retroattivo il pnr ha decorrenza 29 dicembre la retro al 29 di dicembre 2021 la retroattività è stata confusa per quanto riguarda per esempio le farmacie eh come dire ancora che non hanno ricevuto l'autorizzazione quindi sì ma eh tu sei farmacia dopo l'autorizzazione eh prima non lo sei eh quindi la ehm se non hai l'autorizzazione non puoi neanche presentare l'istanza quindi viene meno requisito che non sia una farmacia poi per quanto riguarda gli investimenti progressi l'errore che è stato fatto è legato alla ehm come dire alla compilazione degli ambiti lì dove ho dei degli elementi obbligatori per ambito e li vado a coprire con un finanziamento pregresso ma non non è finanziabile cioè lo devo indicare perché altrimenti dovrei comprare un monitor per esempio cioè nell'ambito primo ambito no quello sempre l'automazione Goldman eh c'è l'obbligo del monitor ventuno pollici ma io non devo comprarne uno nuovo se ne ho comprato uno già ma devo indicarlo devo indicare che ho già uno in bancia in casa in azienda ok ma non è retroattivo cioè non è prevista la retroattività ok poi ha ancora alcune domande quindi le spese antecedenti il 29 12 2021 non rientrano nel contributo PNRR per le farmacie rurali quindi qua io rispondo mi permetto tranne che non ho un anticipo del 20% eh fatto anche tre anni fa l'anno scorso quando volete ma l'impianto viene installato o laudato interconnesso dal 29 dicembre poi e lì sì quindi se uno fa un acquisto prima ma consegna dopo il 29 dicembre 2021 rientra nel PNRR l'investimento l'investimento e si considera effettuato all'atto della consegna del bene ok quindi all'atto della consegna del bene quindi spero di aver risposto anche questo poi ancora altre domande mi chiedono se sono accumulabili sì abbiamo già risposto Sabatini e 4.0 sono accumulabili ok sempre del 45 per Sabatini Bonso Sud nel PNRR perché è un aiuto di Stato nel limite del 45 per cento del valore dell'investimento invece per quanto riguarda l'aiuto generico 4.0 nel 50 per cento oggi 40 per cento bene io direi che abbiamo e no dunque un'altra domanda il robot è stato effettivamente messo in funzione soltanto a giugno 2021 in quanto installato nella nuova sede farmaceutica che operativamente è stata autorizzata dall'ASL solo dall'8 giugno 2021 è un investimento 2020 giugno 2021 quindi non rientra ma era era il dottore che chiedeva prima diciamo info circa quel piatto Golman ordinato nel 2018 anche se faccio un recap faccio un recap così chiariamo ovviamente può sembrare di non ridare la risposta la piccola recap nel momento in cui io devo aver per rientrare nel PNRR 2022 in un posto recuperare investimenti retrattivi solo dal 29 la norma non dice non parla di investimenti retroattivi non cita recupero degli anni passati ma parla che la decorrenza è un investimento dal 29 dicembre norma 28 dicembre entrata in vigore il giorno dopo perché è stata pubblicata 29 dicembre dal 29 dicembre fino al 30 giugno 2022 29 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2022 posso avere questo in questi investimenti che posso addirittura effettuare entro il duemilaventiquattro quindi per assurdo posso anche metterli in progetto ma realizzarli il duemilaventiquattro questo è lo spirito della norma fate investimenti lo spirito della norma è vi aiutiamo a potenziarvi e e crearci un un vantaggio con gli ospedali perché qual è il problema che oggi tra medici di base ospedali col covid siamo pieni perché serve la farmacia è servita la farmacia oggi se guardate ripeto il famoso i famosi interventi si parla anche di telediagnosi teleassistenza verifica verifica a distanza di di con specialisti c'è l'ho visto con i tamponi c'è con i tamponi prima erano prerogativa solo del pubblico ormai sono diventati da mesi da anni anche dei privati tra poco anche la distribuzione del farmaco lo è già la distribuzione del del vaccino oggi è stata data anche alle farmacie quindi la farmacia viene vista come una lunga mano del pubblico cioè vi stanno caricando piacevolmente perché questo è il vostro mestiere di impegni ci stanno dicendo non venite dal medico di base non venite in ospedale se potete andare in farmacia in farmacia lo so perché abbiamo certificato le conformità di di prodotti telemedicina ormai vai a fare anche il prelievo tempo quasi reale in tempo quasi reale ai reali risultati in farmacia quindi per dire eh la telemedicina cioè tu hai il il cardiologo a distanza che registra il dato a distanza e ti fa lui la diagnosi cioè la diagnosi non è della macchinetta perché c'è sempre un un professionista biologo tecnico o specialista che ti dà il reperto ma viene fatto a distanza un po come immaginavamo nei film ma esiste il robot a distanza che io faccio l'operazione mi trovo a milano e sto operando in california quindi è possibile farla quindi il vantaggio eh queste opportunità date alle farmacie ma per le rurali per quelle piccoline e poi per dire vi aiutiamo vi diamo una mano per le grandi non è stato previsto un'altra domanda ci arriva ehm un chiarimento perché su un investimento di centomila euro recupero trentanove mila e trecentotrentatré e non quaranta quattro mila e questo è il limite indicato dal legislatore ripeto andatevi a vedere le slide eh ma ripeto le scaricate la legato uno anche da internet è il limite dice nel limite massimo di trentanove mila trecentotrentatré cioè non l'abbiamo inventato come dato né un errore di calcolo ma è un limite dettato dal legislatore e quindi risposta fornita c'erano due spettatori che volevano volevano parlare in diretta verifica un attimo i tempi però è che già sono le quindici prego qualche minuto sì prego se vuole prendere parola il dottor baldassarre baldassarra dottor giampiero prego deve attivare il il microfono sì buonasera ecco non avevo capito bene questa questo limite di trentanove trecentotrentatré quando vedevo invece che sul bando il limite di poter recuperare era di quarantaquattro mila duecentosessanta glielo spiego allora ehm eh solo un secondo solo un secondo allora ehm eh la dall'allegato uno che troverà nelle slide ma eh ripeto lo prendi anche da internet se se lo cerca in questo istante eh esiste un un costo in un massimo contributo massimo ammissibile quindi il massimo ammissibile per la DC automazione è per trentanovemila trecentotrentatré però il cioè è la somma allora quando ehm noi dobbiamo scegliere in che ambito o più ambiti chiedere il finanziamento quarantaquattro duecentosessanta è il limite totale ma di automazione Goldman posso massimo recuperare trentanove trecentotrentatré quindi sommerò per esempio eh la la console più il notebook più la formazione più l'analizzatore e posso arrivare a quarantaquattromila duecentosessanta ma i limiti previsti dalla tabellina che vi ho vi ho allegato è legato ad ogni voce ogni voce ha un limite cioè non posso eh per non posso comprare un prodotto eh ottimo di automazione e recuperare tutti e quarantaquattro no la norma dice massimo ripeto lo vedete in quella tabellina è trentanove tre tre tre. Perfetto. Sì perfetto. Spero che sia stato chiaro risposto esauriente. Sì sì benissimo. Il dottor Giovannini che voleva fare una domanda in diretta. Prego attivi il microfono. Sì buonasera salve. Senta allora la domanda era proprio questa in merito al PNRR e la il chiarimento al quesito tre dell'agenzia della coesione dice che ehm parla appunto della dell'ammissibilità della spesa per tutte ehm gli acquisti fatti dal primo febbraio duemilaventi quindi quello che non capisco è questo se mi dice l'ammissibilità perché non posso prendere il contributo? Prima domanda. Secondo quando lei parla di Sabatini e mi dice il quarantacinque per cento del del parla di finanziamento su quello che io finanzi il quarantacinque per cento se quindi si acquista il famoso robot a cento mila euro e la Sabatini io la chiedo su quarantacinque mila euro? Allora se facciamo una domanda alla volta non mi lasci non mi lasci no 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 sapete perfetto così che le do risposta eh concreta su tutto. Allora per quanto riguarda il primo febbraio duemilaventi duemilaventi eh non è chiaro ripeto noi ehm siamo costantemente in contatto con il PIS perché si fa confusione tra l'inserimento dei costi dal primo febbraio duemilaventi relativi a importi che non sono finanziabili cioè eh rientrano nel progetto ma non sono finanziabili perché la nulla normativa entra in vigore il ventinove dicembre eh la legga anche lei tutta eh a noi sarà sfuggito ma non credo non c'è un riferimento al duemilaventi e ventuno figuriamoci al ventuno ma qual è la particolarità ma questo solo se e compilate se avete esperienza per compilare il progetto che voi per gli investimenti pregressi addirittura fino dal duemilaventi li potete inserire all'interno del progetto ma non avrete mai un centesimo su questi perché serve solo per barrare quei flag degli ambiti ogni ambito ha dei flag ha delle obbligatorietà devo averle per forza se non ce le ho devo fare l'investimento questo è chiaro eh diciamo di sì eh sinceramente avevo capito altro quindi se le prende se le prende la la il modulo le prende non lo può prendere insomma le mandiamo le slide la gol ma le manderà le slide si renderà con oppure se ha curiosità ha legato uno farmacie rurali in tempo reale si va bene legge quello che io l'ho fatto vedere in slide ok perfetto e in merito alla sabatini invece? Allora la sabatini non è il quarantacinque per cento la sabatini rientra negli aiuti di stato quali sono gli aiuti di stato? Bonus Sud, Sabatini, PMRR sono dichiarati aiuti di stato. Qual è il limite dell'aiuto di stato? Un euro, due euro, euro massimo posso arrivare al quarantacinque per cento del valore dell'investimento. Ok fammi chiedo ti chiedo scusa eh Antonio un chiarimento anche per me quindi se ehm fatto cento avessi solo il CIM cioè credito l'imposto del mezzogiorno che è il quarantacinque per cento ho già esaurito. Non puoi prendere il PNRR ma tu puoi scegliere però allora eh eh la scelta si possono scegliere le misure agevolative. Ah ok posso scegliere per cui è più eh interessante per me prendere i soldi piuttosto che che perfetto perfetto tanto è vero che noi anche a grandi aziende eh che hanno investimenti milionari noi facciamo recuperare la quota sabatini perché è l'unica che arriva non il PNRR farmace rurale perché ripeto insomma non sono farmaceutico. Però la sabatini ti dà dei soldi invece quegli altri sono crediti d'imposto. Perché ci ricordiamo ricordo a me stesso ricordo a voi che i crediti d'imposta fino ad oggi conosciuti quindi quattro punto zero in buono su sud sono non cedibili quindi non possono essere ceduti sono trasferibili parzialmente ma non sono cedibili quindi non sono come il 110%. Ma a parte che adesso anche il 110% diciamo che ci sono dei limiti sulla sessione. Allora signori io direi che vediamo se c'è ancora un'altra domanda. No c'è solo un chiarimento che però abbiamo già dato. Io direi che possiamo chiudere questa sessione di webinar. Signori vi ringraziamo per essere stati in ascolto e per essere stati attivi anche nell'interesse generale su questo argomento che è un argomento direi piuttosto caldo in questo momento. Pertanto vi invitiamo a chiedere qualsiasi tipo di chiarimento potete scriverci potete contattarci come come volete e noi saremo nella condizione di potervi aiutare e darvi le risposte che ci chiedete. Io ringrazio il dottor Antonio Strazzullo sempre molto efficiente perché ci ha dato veramente una gran mano anche lo scorso anno. L'abbiamo messo in contatto direttamente con i professionisti, con i commercialisti dei farmacisti un po' in tutta Italia e devo dire che tutti quanti ci hanno ringraziato per l'enorme contributo perché è una materia che si incrocia, è complessa. Uno per essere sicuro di non sbagliare dovrebbe essere assolutamente focalizzato su questo come del resto è la società Zero F24. Pertanto invitiamo coloro che devono affrontare un investimento che appunto include queste agevolazioni di affidarsi anche a specialisti che sicuramente sgombrano il campo dalle cattive interpretazioni. Davvero un grazie a tutti per essere stati in ascolto e signori alla prossima webinar e facciamo un bel applauso al dottor Antonio Strazzullo. Arrivederci e grazie a tutti. Arrivederci e grazie a tutti.